Grazie a tutti. Io normalmente annuncio le mie dirette e invece in questo caso ho scelto di farla immediatamente. Salve a Tommaso Milella, saluto tutti una volta per tutte, tanto non sarà una diretta lunga, però è come un video, una testimonianza che vi invito a condividere, che invito tutti voi a far girare perché vi racconto cosa succede dietro le quinte di una trasmissione. Mi dispiace non aver potuto farla prima, questa diretta, ma ho soltanto un telefonino. Perché che cosa è successo? Ho appena concluso il mio collegamento con l'Aria che tira, trasmissione della 7 condotta normalmente da Mirta Merlino che adesso per ragioni di sicurezza è in casa e quindi c'è in studio David Parenzo, peraltro persona che conosco da tantissimi anni, essendo un collega e anche un amico. Succede la seguente cosa, l'Aria che tira. L'ultima volta che ero stato c'era questa sorta di piccolo processo contro il governo, come al solito, contro Conte, contro di me, perché ero in qualche modo rappresentante della maggioranza, essendo un esponente del Movimento 5 Stelle, e mi hanno messo a interloquire per due volte consecutive con un signore che diceva di essere un ristoratore distrutto dai provvedimenti del governo. No, semmai il ristoratore giustamente è in difficoltà a causa del Covid, perché nessuna persona sana avrebbe voluto che ci fosse il Covid. E tutti stiamo cercando di fare il possibile per aiutare tutte le persone che soffrono. Ma poi ho scoperto che quel ristoratore che è così attivo, che ha tutto questo spazio in televisione, con questi sospiti, poverino, povero, disgraziato, è vicino a Fratelli d'Italia, in realtà fa politica e quindi farebbe bene, come faccio io, che sono un rappresentante delle istituzioni, a spiegare che lui è di Fratelli d'Italia, che dice queste cose contro il governo, anche per ragioni politiche, perché fa propaganda per una forza politica. La puntata successiva mi hanno messo, insieme a questo ristoratore che è tornato, questo di Fratelli d'Italia, che fa finta di essere solo un ristoratore, in realtà fa politica per Fratelli d'Italia, mi hanno messo un certo cimmino, che con toni da guappo diceva, lei non sa chi sono io, io sono laureato, parlava un po' così, questo qua, io, voi, un governo di incompetenti, e parlava in questo modo davvero, vi faccio vedere il filmato, poi facciamo un bel montaggio. Se non che, come sapete, l'area che tira ha due blocchi, uno dalle 11 alle 12, più o meno, uno dalle 12 all'una. E poi c'è un blocco finale di mezz'ora, dove di solito c'è un ospite fisso. Questo signor Cimino, quello è il credo sia amministratore delegato di Tezenis, di alcune aziende anche importanti, per carità, grande rispetto per il lavoro, parlava con questi toni da guappo, attaccava a testa bassa me il governo, tutti attaccati il reddito di cittadinanza, ha detto un sacco di sciocchezze, abbiamo dibattuto, benché questo parlasse sopra e fosse particolarmente arrogante, dopodiché mi hanno detto, già Russo, il suo collocamento è finito, e lo hanno staccato. Ma ho saputo, perché mi hanno scritto alcuni amici, anche alcuni colleghi portavoce, fra cui il bravo Cristian Romaniello, che saluto, bravissima persona, mi hanno raccontato che questo signore, nella parte quando me avevano staccato, a lui lo hanno continuato a tenere dentro, anche se non era previsto, e questo da solo ha potuto dire un sacco di bestialità e di accuse a me e al governo senza contraddittorio. Questo per farvi un quadro della situazione. Oggi ho appena finito il mio collegamento con la reghettira, che sta continuando, che continua, e che cosa hanno deciso di fare? Verso la fine di questo collegamento, in una di queste piazze, arriva Matteo Salvini. Io avrei voluto chiedere a Matteo Salvini se non ha vergogna di essere andato al Senato senza mascherina, vantandosi di essere senza mascherina. Avrei voluto chiedere a Matteo Salvini se non si imbarazza proprio lui di dire vogliamo risposte chiare, quando lui ha detto tutto e il contrario di tutto in questi sei mesi. Ha detto chiudiamo, ha detto apriamo, ha ridetto chiudiamo, ha ridetto apriamo, ha detto sì, mettete la mascherina, non mettete più la mascherina, e io vado in Senato e non ho la mascherina, allora non posso, non posso fare un selfie con la signora. No, non puoi, perché a causa dei comportamenti scorretti di qualcuno, sono risaliti i contagi, se non lo avete capito. E se i ristoranti oggi chiudono e hanno problemi, e c'è l'obbligo purtroppo di limitare alcune attività, è perché c'è il rischio che la gente muoia per strada con le bare messe in fila, come è successo proprio a Bergamo, purtroppo, alcuni mesi fa. E Matteo Salvini, da incosciente, ha fatto quest'estate delle manifestazioni al Senato ufficiali, quindi in uno dei luoghi della democrazia italiana, il Senato della Repubblica, senza mascherina, vantandosi di essere senza mascherina, e ha dichiarato che il virus era praticamente morto, ricordo una prima pagina di Libero, perché oggi c'era pure Senaldi con me. Allora, mentre Salvini era in collegamento, io cercavo di interagire, chiedergli si vergogna di essere andato senza mascherina, speravo che Mirta Merlino e David Parenzo gli facessero una domanda sulla sua condotta passata. No, perché in Italia quello che hai fatto fino a ieri, se sei Matteo Salvini, non conta. Lui oggi può accusare il governo, può dire noi vogliamo essere ascoltati, ma volete essere ascoltati cosa? Visto che avete detto tutto è il contrario di tutto in questi mesi, visto che avete avuto l'arroganza folle di andare persino a fare manifestazioni di piazza all'aperto e in Senato, al chiuso, senza mascherina, vantandovi di essere senza mascherina, con toni negazionisti, strizzando l'occhio ai negazionisti. Ma perché Mirta Merlino e David Parenzo non gli hanno chiesto questo? Non lo so. E allora c'era la pubblicità, perché non mi hanno fatto replicare a Salvini, e io mi hanno detto, Gianrusso il suo collegamento è finito. Gli ho chiesto no, per favore, tenetemi altri cinque minuti. Io vorrei semplicemente dire che mi stupisco che a Matteo Salvini non abbiate chiesto questo. Mi stupisco del fatto che c'è un ospite così importante, e lo fate pontificare senza contraddittorio su quello che deve o non deve fare il governo, e non gli ricordate quello che ha fatto lui di male nei confronti di questa pandemia? I casini che ha causato con questa sua condotta folle, strizzando l'occhio ai negazionisti. Perché non mi date altri due minuti? Non me li hanno dati. E infatti sono qui a parlare con voi, in diretta, immediatamente. Il programma continua, ci sono altri ospiti, so che c'è Peter Gomez, so che c'è il sindaco di Pesaro Ricci, so che ci saranno altri, non so chi, ma la cosa incredibile è che in diretta sia Salvini che Centinaio, abbiamo pure parlato di taglio di stipendi, perché a un certo punto Senaldi mi ha detto, ah il suo stipendio non è passato, e noi le istituzioni le facciamo. Gli altri, gli amici di Senaldi, Centinaio, Salvini, le fanno le istituzioni? Vi risulta che abbiano scelto di abbassarsi lo stipendio? A me no. Mentre noi ce lo abbassiamo tutti, tutti quanti, tutti noi del Movimento 5 Stelle, restituiamo una parte dello stipendio tutti i mesi, non c'era bisogno della pandemia, l'abbiamo sempre fatto. Allora, porca miseria, ma perché non giornalismo italiano, perché non inchiodi chi ha delle responsabilità, le sue responsabilità? Perché Matteo Salvini può parlare come se fino a ieri fosse stato sul pianeta Saturno e non avesse nessuna responsabilità con i casini che stanno succedendo? Nelle piazze, nelle città, e a causa di questa condotta irresponsabile, si è diffuso nuovamente il virus, se non vi è chiaro, e siamo in un mare di guai, e quindi le chiusure dolorosissime. Penso al mio settore, nel quale ho lavorato per 15 anni, quello del cinema, del teatro, io ci ho lavorato poco a teatro, al cinema tantissimo, nelle fiction tantissimo, e ho migliaia di amici che lavorano in quel settore, e che sono giustamente in grande difficoltà, e gli sono molto vicino. In passato sono riuscito a fargli avere i contributi, anche che aveva solo sette giorni di lavoro l'anno precedente, mentre all'inizio era 25 giorni, perché io ascolto le persone che mi chiamano e mi chiedono aiuto. Ma raccontare che il problema dei disagi che vive l'Italia è legato al governo, e che invece chi sta all'opposizione non ha responsabilità, quando sono quelli che sono andati in Senato senza mascherina a vantarsi di essere senza mascherina, e che hanno fatto le manifestazioni di piazza senza mascherina, facendosi i selfie con la gente senza mascherina, e i contagi sono ritornati a risalire, beh vi dovete vergognare, vi dovete vergognare di avere un ospite del genere che ha delle responsabilità precise, e non dirgli nulla su questo. Vi prego fatela diffondere questa diretta, condividetela, condividetela nelle vostre pagine, nei gruppi, perché io non capisco per quale ragione c'è qualcuno che in televisione può parlare senza contraddittorio, senza che gli vengano ricordate le sue responsabilità, e c'è qualcun altro al quale vengono rivolte centinaia di accuse come se il problema dei ristoratori ai quali sono estremamente vicino e dei gestori di palestre e dei lavoratori e di tutti quelli che hanno disagi, fosse colpa di Conte o mia o del governo o dei Cinque Stelle, perché è falsa questa cosa. Non è colpa nostra. Noi stiamo facendo di tutto per aiutare chiunque sia in difficoltà. E raccontare che chiudere sia una follia non solo è sbagliato, ma è per l'ennesima volta fuorviante, perché se questa pandemia riesplode senza controllo, cosa che sta già succedendo in Francia, in Belgio e in Germania, siamo veramente di fronte a una catastrofe epocale, perché poi dovrebbe chiudere tutto e chissà per quanto tempo, e poi finiscono i soldi prima o poi. E capite cosa significherebbe questo per questo paese? Significherebbe la morte commerciale ed economica, peggio della guerra. Già siamo vicini ai drammi del post-guerra mondiale. Se non limitiamo ora i contagi, sarebbe peggio della guerra. Eppure abbiamo Salvini, che ha fatto le sue belle manifestazioni strizzando l'occhio ai negazionisti, che va in televisione e nessuno gli ricorda le sue responsabilità. Nessuno lo inchioda le sue responsabilità. E io chiedo di avere altri due minuti dopo la pubblicità per ricordarglielo e non me li concedono. Mi staccano il collegamento. Questa, così funzionano tanti talk show in Italia. Ed è giusto raccontare cosa c'è dietro le quinte. Non è un gossip, non è una delazione. È raccontare la verità. Loro avranno i loro ottimi motivi per avermi tolto il collegamento. Avranno dei motivi, vorrei saperli, per non avere fatto domande a Matteo Salvini sulle sue gravissime responsabilità e per trattarlo, come fa anche Giletti, come fanno altri, con questa particolare benevolenza. Trattiamo bene Salvini, trattiamo bene Calenda, il governo di unità nazionale. No, il governo c'è, è il governo Conte, per fortuna. Perché la verità è che siccome arriveranno i soldi del Recovery Fund, 209 miliardi di euro, nel 2021, che che ne dicono, arrivano fra pochi mesi, bene, c'è qualcuno che ci vuole mettere le mani sopra. E questo qualcuno, dice governo di unità nazionale, cambiamo il governo, togliamo Conte, perché vogliono spartirsi la torta. Noi glielo impediremo. E vi prego, fate girare questa diretta. Spieghiamo a tutti la verità su cosa si può e non si può dire e vedere in televisione tuttora. Il che è molto grave, perché durante una pandemia bisognerebbe essere uniti, sereni, e non avere paura di inchiodare i politici che hanno responsabilità alle loro responsabilità. chiedendogliene conto in diretta. Chiedendogliene conto in diretta. Non suonando il violino. Perché il violino si suona quando bisogna festeggiare qualcuno. Quando c'è un politico che ha delle responsabilità precise gliene si chiede conto in diretta. Grazie. Fate girare questa diretta. Condividetela per favore. Condividete questo video. A presto. Grazie. Grazie. Grazie.